Il soggetto beneficiario delle fatture, quindi delle forniture che abbiamo constatato essere fittizie, era stato destinatario di due finanziamenti pubblici da parte della regione Sicilia e della Crias. Quindi questo ha fatto sì che venissero ulteriormente approfondite le attività e dall'approfondimento è emerso che il soggetto destinatario dei due finanziamenti pubblici aveva utilizzato ulteriormente altre fatture per operazioni inesistenti da parte di altri soggetti imprenditori che operavano nel settore edile e con la loro sede in Palermo. Si è proceduta una ricostruzione dell'approvvigionamento della merce che era stata indicata nelle fatture e questo ha fatto sì che seguendo la catena di fatturazione di cui era stato ultimo beneficiario il destinatario del contributo, questa ricostruzione a posteriori, quindi a ritroso, ha fatto sì che venissero individuati anche due soggetti economici completamente inesistenti che hanno la loro zona di influenza nella Locrite. L'aspetto importante è dovuto alla tempestività dell'intervento perché l'attività dei militari ha consentito di bloccare anche l'ulteriore saldo dei due finanziamenti di cui avrebbe beneficiato l'imprenditore. Questo quindi ha fatto sì che l'emorragia di denaro pubblico venisse bloccata prima che venisse completamente portato a compimento la truffa.